Grazie, Presidente. E come è stato detto dal segretario nell'introduzione, lo ringrazio per la citazione, io vengo da Piombino. C'è un luogo lungo la costa toscana, che è ancora oggi il secondo polo siderurgico di questo Paese, dopo Taranto, che attraversa una fase delicatissima della propria vicenda industriale di lungo periodo, quella vicenda che ha segnato la storia produttiva di questo Paese, che ha forgiato accanto ai laminatoi dove si producono ancora le rotaie, le vergelle, dove ancora si cola l'acciaio con il ciclo integrale, la cultura, il senso civico, l'appartenenza, il senso di sé di cittadini che come lavoratori producevano se stessi all'interno di una dimensione collettiva, acquisivano status, mobilità sociale, facevano studiare i figli nel corso del Novecento. Ebbene, in quel territorio oggi ci sono 5.000 famiglie che drammaticamente rischiano, insieme al posto di lavoro, una prospettiva, sono preoccupate dall'assenza di un'ambizione che colleghi e che metta in campo nuove politiche industriali che restituiscano un profilo industriale a questo Paese. Ebbene, io credo che mentre noi parliamo delle nostre regole, lo facciamo bene con la profondità che serve, con una dimensione analitica e culturale che è stata qui espressa dal Segretario, io credo che non dobbiamo disgiungere questo percorso che parla di noi da un'analisi profonda dei temi che riguardano le vite di migliaia di persone. E, come dire, lo voglio suggerire al collega Fiorentino che è passato da Piombino nelle settimane scorse a far vedere i filmini e non ha dedicato neanche un minuto allo smarrimento e ai timori della gente di quel territorio, che chi pensa o ambisce di governare questo Paese non può non conoscere profondamente temi che riguardano la produzione industriale, la modernizzazione del nostro tessuto produttivo, perché il tema delle politiche industriali ci sfida. Noi siamo entrati nel novero dei grandi paesi industriali nel corso del dopoguerra, perché c'è stata una classe dirigente, c'è stata la cieca, ma c'è stata anche una classe dirigente che ci ha consentito di farlo, che ha guardato lontano. È stata una scelta politica, una scelta culturale che ha messo in campo questo Paese accanto alle più grandi potenze industriali del mondo. Questo ha promosso crescita, benessere e distribuzione della ricchezza attraverso meccanismi corretti di welfare. Oggi questo patrimonio è minato dai colpi della globalizzazione, che in territori come il mio, come quello che rappresento, non è solo una categoria per comizi o per approfondimenti di natura culturale. Esiste. In siderurgia contano la titolarità delle miniere, conta la gestione finanziaria dell'oscillazione dei prezzi delle materie prime. Conta una presenza pubblica che oggi manca, e avvertiamo con nostalgia la distanza dall'industria 2015 che alcuni anni fa il governo e il ministro dell'industria da allora mise in campo, politiche che siano in grado di tutelare, modernizzare, e accompagnare la nostra struttura industriale verso nuovi paradigmi tecnologici e produttivi. Perché è esattamente in territori come quelli, territori contesi, fra porti, città e ambiti industriali, dove il tema delle bonifiche e della reindustrializzazione delle aree può inverare processi di nuova occupazione, di nuova crescita e attrarre nuovi investimenti. Se non ci si occupa di questo, io temo si produrrà un'ulteriore distanza con generazioni di lavoratori. E badate, e finisco. In questo percorso politico che oggi ci accingiamo a fare verso la selezione del nostro gruppo dirigente e verso le elezioni politiche, io credo che dobbiamo tenere botta e barricarci intorno anche a un modello culturale. Perché 25 anni di liberismo e 15 anni di berlusconismo hanno fatto regredire il valore sociale del lavoro e della produzione nella gerarchia dei valori culturali che ordinano la nostra società e la nostra cultura. bisogna tornare a dire che gli operai non sono degli sfigati che si muovono dentro degli stabilimenti e a fine turno vanno a casa. Bisogna tornare a dire che c'è un'ossatura produttiva in questo Paese che va valorizzata, riqualificata e conservata. E tutto questo io penso che sia una sfida politica contemporanea che può mettere alla prova una classe dirigente vera. Perché quegli antichi plebei che nel Novecento si sono liberati da antiche catene oggi rischiano di indossarle di nuovo, di attirarli giù dai tetti, stare accanto a loro e promuovere politiche di sviluppo serie. Questo ci mette alla prova, questo ci sfida e credo che debba essere un tema guida del Partito Democratico che viene. Vi ringrazio.